Ciao amici, oggi siamo a con cantella di detta focaccia. Ciao amici oggi siamo a focaccia! Ciao amici, oggi siamo a farina e l'acqua, prima è l'acqua, bella, e poi mi togliamo. Dio, andiamo a scelare, così, così, questo è tutto, guarda, questo è tutto, desto per me è di fare, così. Ecco io, tutto, ecco lì, e il colore è ben con la tutta. Adesso mettete i bambini! Vini! Hai? Beh. Quattro, per mamma. Quattro, per Michele. Non è piatto mangiare i bambini. E non potevo fare più la setta. Mi devo mangiare tutti. Sì, ecco lì. E tutto il beccolo. Sono state tutte cose. Ecco lì. Molto bene. E' un po' di olio e una sette. E' un po' bello! 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 Finito! E' un po' bello! E' un po' bello! E' un po' bello! Massimo! E' un po' bello! Vediamo! Sì! Allora! Così, tutto, con una, qua. Tutto da casa, con il cucchiato. Adesso mettete un po' di margine, trova. Così, ancora un po'. Adesso qua, con il mordrino, trova. Questo. Mecco. Questo. 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 Ma qui, un po'. Una parte, un po'. Uno bello, non un mare. Quanto è bello. Questo lo metto qua. Ho detto, un po' di oligano. Tutte le parti, a me piace oligano. Ho detto, tutti i parti. Ho detto, un po' di oligano. Ho detto, in fondo, guardate. Ho detto, mangiamo un po'. Ho detto, un po'. Ho detto, un po' di... Vemma è lei? Ecco. è che mi è dunque bella è buona bimbi è buona bimbi è buona bimbi ciao